Una guest star, scusate Ma quanto mi vale, non stare sul letto così Ciao Topo, mi fai compagnia in questo video Mi fa compagnia in questo video Buongiorno ragazzoli e ragazzuole, scusate stavo parlando col mio cane che mi sta guardando E come state? Spero tutto bene, quasi, tutto bene Cosa c'è Topo? Non so, è qua che mi guarda strano Vabbè, tanto l'avete vista nella mia fantasticissima introduzione E' una guest star, scusate E prima di iniziare questo video opinione sui ultimi due romanzi che ho letto Volevo farvi un piccolissimo consiglio di un blog di una mia amica, la Eli Che ha creato questo blog e si chiama Le Nove Muse Il link c'era già nella pagina del mio canale, nella pagina proprio iniziale Però se non l'avete visto ve lo rimetto qua sotto E' un blog fantastico, andate a vederlo Ci sono dentro sia le recensioni degli ultimi romanzi che la Eli ha letto Ma mette anche tantissimi stralci di altri romanzi, di poesie E' una grandissima fan dell'età romantica e vittoriana inglese Per cui non potete non andarlo a vedere se siete dei fan di quel periodo Forse ha anche citato alcune serie della BBC, non mi ricordo Penso di sì, quella Nord and South, non so se qualcuno di voi l'ha mai vista Che era trattata dal romanzo della Gas Comunque andate a vederlo, Le Nove Muse, poi vi metto il link qua sotto Ciao Eli! La saluto anche E attendo con ansia quella recensione che mi avevi detto Per cui dopo vengo a vedere se per caso l'hai postata Visto che è il weekend, magari hai più tempo e l'hai scritta finalmente Detto questo, iniziamo subito con appunto queste due opinioni Perché non si può più dire recensione, prima che ci becchiamo degli insulti noi youtuber Quando parliamo di recensioni Il primo libro di cui vi do la mia personalissima e completamente inconcludente opinione E' questo, Hyperion di Dan Simmons Questo costa 4,90 euro E ha 455 pagine, se non mi ricordo male, adesso vado a vederlo Sì, sono 455 pagine Allora, questo è il primo di una serie di romanzi Sono 4 in tutto Che si chiamano I canti di Hyperion Gli altri si chiamano La caduta di Hyperion E Endymion e Il risveglio di Endymion Questo non finisce, per cui gli altri ve li dovete leggere Devo leggerli anch'io, tra l'altro Gli altri non costano 4,90 euro Costano 9,90 Ve lo dico già, perché li ho visti in libreria Per cui fidatevi Allora Io l'avevo già letto questo libro Ve lo anticipo Anni e anni fa, quando andavo ancora all'università Non mi aveva fatto impazzire Perché ho deciso di rileggerlo Perché Dan Simmons è quello che ha scritto Drude Che come sapete io ho amato alla follia Per cui sono andata a rirecuperarlo No, questa non era la versione che io avevo Perché Metapina io l'avevo dato via in scambio Per cui questo l'ho rirecuperato sempre con lo scambio Sono una persona molto furba Cioè, che dire Vabbè, detto questo Partiamo subito con la trama Allora, io ci provo a spiegarvelo Perché è molto complesso Iperion è ambientato in un futuro molto prossimo Nel 2700 più o meno Un futuro in cui questo evento Che si chiama il Grande Errore Ha comportato la distruzione della Terra Per cui la Terra non esiste più Ma l'umanità vive su altri pianeti Che sono stati colonizzati Tra questi pianeti appunto C'è anche questo Iperion Che è stato chiamato così In onore di John Keats Si viaggia attraverso questi vari pianeti Con questi portali Che permettono il viaggio appunto Spaziali I vari pianeti Questi portali E l'umanità Sono governati in un certo senso Da questa egemonia Che è questa istituzione Perché Iperion è così importante? Perché su Iperion Si trovano queste tombe del tempo E questo Shrike Che è questa divinità metallica Per cui non è una divinità Ma non è umana Ma non è È un robot Cioè non si sa bene E tutti O tante persone Fanno domanda Per andare in questo luogo Allo Shrike Per fargli delle richieste Per essere esauditi In alcuni desideri Arrecarsi allo Shrike Sono tutti una serie di pellegrini Il problema è che Soltanto una richiesta per volta Viene esaudita Questo brevemente Ah e nel frattempo Diciamo L'egemonia E questi vari pianeti Sono minacciati dagli Auster Chi sono questi Auster? Sono praticamente Questo gruppo I discendenti di ex coloni Che rifiutano La tecnologia dei portali Per cui Loro Si adattano Alle varie colonie Dove vivono Tramite L'ingegneria genetica E via dicendo In tutto ciò Si muovono I protagonisti Della storia I protagonisti Sono questi Sette pellegrini Che vengono selezionati Appunto Per recarsi Alle Tombe del tempo Su Iperion Perché i pellegrini Vengono selezionati Uno fa domanda E poi eventualmente Viene scelto I pellegrini Che si recano Alle tombe Sono tutti Composti da numeri primi Non si sa perché È così E basta E questi Sette pellegrini Ovviamente Si vogliono Recare Dallo Shrike Per fargli Appunto Una richiesta Quale sia La loro storia Ci viene narrata Nel corso Appunto Del romanzo Per cui C'è una parte Del romanzo Che è dedicata Al loro viaggio Fino ad Iperion E poi Su Iperion Fino alle tombe Del tempo E questa storia È inframmenzata Dai sette racconti Di questi sette pellegrini Che raccontano La loro storia E raccontano Il perché vogliono Appunto Andare dallo Shrike E qual è la richiesta Che faranno A questo essere Semidivino Allora Apparentemente Come Sembra Di avervi Fatto capire La storia Non è Un granché Complicata Nel senso che Appunto Sono questi pellegrini Che devono andare Ad Iperion E raccontano Il perché Ci vanno Non so chi di voi L'abbia mai studiato Al liceo Praticamente Come dire Si ispira Dan Simmons Ai racconti Di Canterbury Di Geoffrey Choser Che più o meno Erano strutturati Nella stessa maniera Appunto La storia Non è Particolarmente Complessa In sé Il romanzo Però Lo è E anche parecchio Perché Vi dico questo Perché È vero che è un romanzo Di fantascienza Per cui Vi deve piacere Almeno un po' La fantascienza Perché se no Non ci mettete Neanche a dietro Perché se no Non trovate neanche La spinta E il desiderio Per andare avanti A leggere Nel momento in cui Vi incappate Nelle parti Più complicate Io vi dico Complicato Perché Dan Simmons Non vi fa Un'introduzione Come vi ho fatto Io adesso Sul perché Per come Ci troviamo qui Che cosa è successo Che cos'è lo shrike Perché la gente Vuole andare là Che cos'è questo Evento Grande errore Che ha comportato La distruzione Della terra Quando è che Sono nate Tutte queste colonie Quando è che Si sono scoperti Questi pianeti Abitabili No Non c'è Niente di tutto questo Voi venite Subito all'inizio Della storia Catapultati Nella storia Per cui Vi si dà per scontato Che voi sappiate Tutta una serie di cose Che ovviamente Non sapete Perché non è Storia attuale È un romanzo Ed è di fantascienza Roba inventata I perché I per come Tutti gli eventi Che sono successi Prima Vi vengono spiegati Un po' per volta Ma neanche tanto Nel senso che Tipo Questo appunto Questo evento Che si chiama Il grande errore Vi viene magari citato All'inizio Dove personaggi Parlano Salta fuori Il discorso E voi lì Vi domandate Cos'è Questo grande errore Ma non vi viene detto Vi viene recitato Magari a pagina Che ne so 45 Poi ancora Pagina 73 Poi ancora Pagina 120 Voi Vi fate un'idea Ovviamente Di cosa possa essere Perché Magari Due personaggi Dicono qualcosa Quell'altro interviene Per cui voi Più o meno Vi fate un'idea Di che cosa possa essere Ma magari Vi viene spiegato Nei minimi particolari Soltanto a pagina 200 E allora Li dite Ah ok Allora era questo Il problema Non è Cioè se voi L'avete intuito Buon per voi Se invece Voi avete capito Una cosa Diametralmente opposta E allora Li vi si incasinano Le idee a mille Per cui Da una parte È interessante Strutturare il romanzo Così Perché vi invoglia Andare avanti Per scoprire appunto Quali eventi Hanno portato Ad un presente Del genere Ad un presente In cui si fanno I viaggi Nello spazio Ad un presente In cui c'è Un'egemonia Ad un presente In cui ci sono Tanti pianeti Colonizzati E via dicendo Da una parte È frustrante Quando non riuscite A capire Di quello Che stanno parlando Per esempio Quando viene citato Lo Shrike Le prime volte Io impazzivo Perché non riuscivo A capire cos'era Cioè È un dio È una presenza È un che cosa Cioè Esiste fisicamente Cioè nel senso Perché alcuni dicono Ah sì È un pericolosissimo Shrike Cioè ma cosa fa Uccide È un mostro Fatemi capire È un animale selvatico Però ero talmente curiosa Che poi sono andata avanti Lo stesso a leggere Sì Sono anche andata A cercare le spinte A certe cose Io ammetto questa cosa Perché dopo un po' Mi dava talmente fastidio Che io dovevo sapere Così allora Sono andata A cercarmele su Su Wikipedia Proprio banalmente Aspettate che guardo Le appunto Ah ecco I sette racconti Su cui è strutturato Il romanzo Di questi sette pellegrini Sono tutti molto interessanti Ecco io Posso capire Che alcuni di voi Magari può dar fastidio Il fatto che La storia Sia inframmezzata Da vari racconti Tipo La Betolina So che queste cose Me l'ha rimasta Me l'ha rimasta impressa Da quando avevo letto Il romanzo Perché pellegrini Di questo Martin Sileno Che è questo poeta Ubriacone Che è proprio lui Che ha scritto Questa raccolta di poesie Che si chiama I canti di Iperion È forte la presenza Di John Keats Se qualcuno di voi E' fan Si legge questo libro Per me Cattura molti più Riferimenti a lui Di quelli che ho fatto io Per cui Questo è Iperion Di Dan Simons Appunto Questo è un caposaldo Ecco io non ve l'ho detto È un caposaldo Della fantascienza Per cui Se volete iniziare A leggere qualcosa Vi consiglio questo Più che magari Leggere Philip K. Dick Che è già Una cosa Un po' più complessa Se no Provate a leggere Dune Di Frank Herbert Il primo Se non altro Che per me Non è particolarmente Complicato Anche perché Frank Herbert A differenza di Dan Simons Spiega le cose Cioè spiega Questo pianeta Perché si chiama così Spiega Perché questi due Non si possono sopportare Perché Si vogliono tutti Trasferire su Dune Che cosa c'è su Dune Di così strafigo E via dicendo Cioè vi dà un sacco Di spiegazioni Per cui non è Complesso da seguire Oltretutto Sì è vero Che è un romanzo Di fantascienza Però Non Cioè non va aspettato Delle cose particolarmente Complesse Ecco Anzi A voi Che mi seguite Anche a tutti quelli nuovi Tra l'altro vi saluto Ciao Tutti questi nuovi iscritti Che siete spuntati Come i funghi Ultimamente E se qualcuno di voi È un fan Della fantascienza Mi sa consigliare Qualche romanzo Io sono sempre curiosa È un genere Che non seguo tantissimo Però Anche perché Non so qual è Il libro Andare a pescare Perché ho paura Di incappare In roba Che io poi Non capisco Questo L'ho seguito bene Nonostante fosse complesso Ma ho paura Di beccare il libro In cui c'è la gente Che prende Racconta delle robe Completamente Assurde E io dopo Mi perdo Nei meandri Del libro Detto questo Parliamo di un libro Completamente diverso E molto 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 Più semplice Che è L'uomo che sorrideva Di Annie Mankell Questo è edito Da Marsiglio Gialli Costa 12,50 euro E ha Ve lo dico subito 382 pagine Allora Questo Come potete intuire È un romanzo Con protagonista Appunto L'ispettore Kurt Bonlander Li sto leggendo Troppo in fretta Tra l'altro devo smettere Sono una droga ormai Questo è il quarto libro Con appunto Protagonista Kurt Dopo magari sotto Vi metto il link Delle recensioni Degli altri libri Tra l'altro Una parentesi Io il primo libro Che ho recensito Appunto era Il primo Con protagonista Wallander Che capelli avevo In quel video Vabbè Chiusa parentesi No perché l'ho rivisto ieri Io non l'avevo più guardato Stavo controllando Una roba sul canale Stavo sistemiando due video E niente Ho visto questa cosa Fantastici Comunque Detto questo Di cosa parla Questo romanzo Allora Per vicissitudine varie Che io non vi spiego Perché se voi Non avete letto il libro Non voglio rovinarvelo In questo romanzo All'inizio Wallander Non sta più Nella polizia Di Stad Perché alla fine Del romanzo scosto Che era La lionessa bianca Wallander Si era dimesso Si era messo in malattia Ha detto Basta Non voglio fare più Il poliziotto Voglio starmene Per i fatti miei Per cui Wallander È effettivamente Per i fatti suo Non sta neanche più E Stad Si è proprio andato In un'altra parte Tipo in vacanza Per riprendersi Questo suo Ex amico E avvocato Che l'aveva Diciamo seguito Nella casa di divorzio Con sua moglie Ancora Tra i libri fa Va da lui E gli chiede aiuto Gli chiede aiuto Perché lui dice Che Suo padre Gustav Torsteston Anche lui è avvocato Mentre il figlio Appunto che va da Wallander Si chiama Stan Stan dice a Wallander Guarda Mio padre è morto In un incidente In macchina Ma io non credo Che sia stato un incidente Credo che sia Stato inscenato Un incidente In realtà lui è stato ammazzato Wallander ovviamente Dice Guarda Io ho dei colleghi Lì Nella polizia di Stad Che sanno fare benissimo Il loro lavoro Se loro ti dicono così Evidentemente è andata così Stan insiste Dicendo no Guarda Ultimamente Mio padre era cambiato Si vedeva che c'era qualcosa Che non andava Per me Centra Questi Questo ultimo lavoro Che lui Si è preso La briga di svolgere Per questo Grosso magnate Che si chiama Alfred Harderberg Per me Centra qualcosa Per favore Indaga tu Wallander all'inizio Ovviamente non vuole Però alla fine In un certo senso Si lascia convincere Per cui torna I stud Nel momento in cui Torna I stud Scopre Che Stan Torsteston È stato ucciso Lui proprio Ucciso Nel senso che lo trovano In un ufficio Morto Ammazzato Con dei proiettili In corpo Per cui non c'è dubbio Su quello che è successo Lui torna appunto Alla polizia Decide di non Congedarsi più Perché addirittura Lui a un certo punto Ha preso proprio la decisione Di congedarsi dalla polizia Andare in prepensionamento Lì decide di non Congedarsi più E si mette a investigare Con i suoi colleghi Soliti Più una nuova collega Che è questa Ambritt Sull'omicidio Di Stan Torsteston E sul forse Non incidente Di Gustav E sul fatto Che possa essere Implicato Questo Alfred Harderberg Che è questo Signore molto Molto ricco Che fa un sacco Di beneficenza Che ha costruito Le scuole in Africa Che ha fatto Tutte queste cose Per cui In teoria È un intoccabile Cioè Addirittura Arriva il capo Della polizia Di Di Stad Che dice a Wallander Stacci attento Perché guarda Questo qui è una persona Buonissima È un benefattore Spende un sacco Di soldi Per aiutare Gli altri Vedi di non Accusarlo troppo Perché Io non ci credo Che lui possa Essere coinvolto In delle vicende Così sporche Come appunto L'omicidio Di Stan E forse L'omicidio Di Gustav Allora Come si può Facilmente intuire È un giallo Abbastanza canonico Perché vi dico Questo Perché I due romanzi Precedenti Con protagonista Wallander Erano sì Dei gialli Ma Mankel Ha inserito Anche parecchie Vicende Legate alla politica Nel senso che Nei cani di riga Trattava tutta la situazione Della Lettonia Mentre Nella Nessa bianca C'è una buona parte Del romanzo Era dedicata Alla situazione Politica Sociale Economica E quant'altro Del Sudafrica Invece In questo romanzo Non c'è niente Di tutto ciò È tutto ambientato In Svezia È tutto ambientato Ad Istad Ed è tutto dedicato Alle andagini Di Wallander E tutto il suo Gruppo investigativo Appunto Su questi due Omicidi C'è un omicidio E forse anche l'altro È un appunto Come vi ho detto Un giallo canonico Per cui procede Per interrogatori Scoperte E via dicendo Wallander È un pochino Meno James Bond Rispetto al solito Per cui Non prende parte Tutte quelle imprese In cui prendeva parte Nei romanzi precedenti Tipo Sparatori Seguimenti E quant'altro Qui è È abbastanza lineare Questo giallo A volte Fin troppo Vi dico questo Perché Perché Ma anche L'inserisce Alcune vicende In Wallander Diciamo Si imbatte In alcune vicende Ecco meglio Che Apparentemente Sono slegate Dal contesto Ma che ovviamente Se ci vengono presentate Chiaramente Alla fine Ci entrano qualcosa Perché se no Non ci verrebbero presentate Per cui Diciamo Che la risoluzione Del giallo Non è particolarmente Complessa Neanche per il lettore Nel senso che Se voi siete Forti lettori di gialli Fate abbastanza presto Capire Come tutti gli eventi Siano legati E Come risalire Al colpevole Per cui Questo è un po' Il difetto L'unico difetto Del libro C'è il fatto appunto Che È un giallo Però l'autore Non fa niente Per sviarci Da quelli Che potrebbero Essere i colpevoli Praticamente A un certo punto Ce li sbatte Proprio sul naso Ma a metà romanzo Per cui Cioè tu dici No vabbè Dai lo sta facendo opposta Il problema È che non è Che c'è una valida alternativa Come succede Di solito Nei gialli Per cui Io ti faccio vedere Vari personaggi Mi concentro su questo Cerco di Portare il lettore A credere che questo Magari sia l'assassino Poi però Forse lo faccio sviare Verso l'altro Poi alla fine Invece è il terzo Che nessuno Capito Calcolava E alla fine Si scopre che è lui Qui invece Forse è un po' troppo chiaro Come sia andata la faccenda Non si scopre magari Il perché Queste persone Sono state ammazzate Però si Si capisce Di chi è la colpa Ecco Un mio video Non è un mio video Per concludere Se io non cito Almeno una volta La BBC Per cui Vi segnalo Che esiste L'episodio Della serie televisione Di Wallander Dedicato appunto All'uomo che sorrideva È Il secondo episodio Della seconda serie Esistono due serie Da tre episodi L'una Nel caso qualcuno di voi Non lo sapesse Con il protagonista Kenneth Branagh Che interpreta appunto Kurt Wallander L'episodio è leggermente L'episodio è leggermente diverso Rispetto al romanzo Nel senso che Alcune situazioni Proprio Cambiano Addirittura Diciamo che I colleghi di Wallander Non la prendono Così tanto bene Il fatto che lui Ritorni così All'improvviso E decida Adesso Dirigo io le indagini Sull'omicidio Di Stan Thorntestone Diciamo che Quello che non apprezza Per niente È un po' Martinson Perché Non avevo già detto Che il rapporto Tra questi due Nei libri È meno di Odio Amore E rispetto E qualunque altra cosa In una serie televisiva Invece Wallander Poi non lo saccagna In continuazione Fatti un po' In tenerina Su Kurt Da questi bei Ricciolotti Biondi Del Martinson Comunque Non pensare a Martinson Jessica Ho perso il filo Perché sto pensando a Martinson Non dovevo Se avete letto queste romande Fatemi sapere Che cosa ne pensate Se volete consegnarmi Dei libri Fantascienza Io sono qua Consigliatemi Qualunque tipo di Fantascienza Magari se Non è troppo complessa Preferisco Io vi saluto E vi auguro Buone letture Vi auguro Buon weekend Fatemi sapere Cosa fate di bello Questo weekend Io vado al cinema Ancora Che due balle Voi giustamente Potreste anche pensare Se ultimamente Andiamo soltanto al cinema Ma noi E vado a vedere Un film Intelligentissimo No non ve lo dico Vi faccio la recensione Senza dirvelo Perché mi hanno chiesto Una mia amica Mi ha detto Però dopo devi fare la recensione Per cui non vi dico Che cosa vado a vedere Vedrete la recensione Domani o lunedì Adesso quando la faccio Per cui Vi risaluto Vi auguro Sempre buon weekend E buone letture Ciao ragazzi Ciao 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 Guardate come l'ho tirata Che buono L'ho potuto Tira Ciao 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 Grazie a tutti.